Cappellacci, la partita con la Reganatese è insidiosa perché è una squadra di categoria, peraltro il Teramo ha qualche piccolo acciacco nella sua rosa, nell'allestimento appunto di quello che sarà l'organico di domani. Sì, sempre relativamente poi ai giocatori che sostituiscono gli eventuali acciaccati, quindi non abbiamo nessun problema. E' chiaro che magari in settimana qualche acciacco c'è stato, però poi contiamo di recuperare tutti e comunque non ci preoccupiamo più di tanto perché abbiamo una rosa che ci permette di sopperire a qualsiasi carenza, al di là che questa poi sia esagerata. Si va a giocare una partita molto difficile con una squadra che al di là di quello che ha fatto fino adesso è una squadra di grande valore, con un allenatore molto bravo a mio avviso, una squadra che vorrà ben figurare anche perché è indetta la giornata giallorossa. Insomma sono tutte le caratteristiche perché questa sia una partita veramente difficile, noi come sappiamo già da tempo dobbiamo continuare a fare bene, continuare a cercare di vincere le partite, lo faremo con le nostre armi, al di là del rispetto che questa volta bisogna dare veramente un rispetto massimo a una squadra così forte. Ci sarà in campo Ecani, abbiamo visto De Fabritis ai box, recuperato Valentini, i dubbi sono sostanzialmente Bucchi e Vitone. Più che altro bisogna vedere Valentini che è tornato col gruppo da due giorni e neanche tanto, Bucchi in settimana non si è mai allenato perché ha avuto anche lui dei problemi, se dovesse esserci Bucchi cambierebbe nulla, magari se ci verrà a mancare Bucchi probabilmente qualcosa cambieremo, anche in virtù della forza dell'avversario che ha una squadra fisica, che ha tanti saltatori e quindi magari da quel punto di vista potrebbe poi riposarsi qualche altro giocatore che invece non è mai stato in discussione. L'ultima sulla recanatese è squadra Arcigna, peraltro sono abbastanza bravi sui piazzati con gente come Marchetti e Faieta. Sì, hanno gente che sa tirare le punizioni, ma ha gente che sa saltare perché è una squadra, come ho già detto, che ha fisicità in tutti i reparti e quindi sulle palle da fermo, al di là che sul gioco, ti possono mettere in difficoltà. Siccome si prevede che il campo di Recanati sia anche un campo ai limiti del bel campo, di conseguenza dobbiamo prepararci a fare una partita di sostanza, di attenzione e di pochi fronzoli.